Ed eccoci a Bergen. Con i suoi 270.000 abitanti, è la seconda città della Norvegia dopo Oslo e principale porto della costa del mare del nord. La città, rifatta più volte dagli incendi che l'hanno devastata, conserva comunque il fascino dell'antico. Sull'estrema punta del promontorio sorge la fortezza di Bergen. La fortezza fu seriamente danneggiata nel 1944 per l'esplosione di una nave tedesca carica di munizioni. Ma il cuore di Bergen, il luogo più animato e più frequentato dai turisti ma anche dalla popolazione locale, è il Bryggen, che in norvegese significa molo o approdo. Casa in legno, a vivaci colori, edificate in linea con tetto spiovente. Dal XIV al XVIII secolo è stata la sede dei commercianti della Lega Anseatica. Ora il luogo è diventato il più animato della città e meta obbligatoria per le migliaia di turisti che la visitano.